Niente, questo ristorante è solente, è un'ora che sta aspettando, cambio ristorante, guarda quanto ci vuole, guarda va a vedere la televisione invece di cucinare, guardate, guardate, guarda, guarda, ancora niente, ancora non si mangia, quanto ci vuole aspettare qui, ancora si mangia? Ancora, 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 in più lo fa con la cipolla, Oh, che pazienza! Ce l'ha detto qui? Che, no, no, qui io le voglio, nella mia! Guarda, 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 guarda! Vabbè la mia... Guarda, 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 guarda! Ah, finalmente sono pronti Quanto è lento sto cuoco Niente, niente Devo cambiare cucina Niente, niente